L'elenco delle disgrazie e delle sofferenze è fin troppo consueto e troppo deprimente. I cristiani non si limitano però a dire e a soffrire per tante situazioni, ma intravedono la possibilità di una salvezza proprio perché credono che Gesù è il Salvatore. Quindi noi cominciamo l'anno pastorale non gravati dal pessimismo, ma piuttosto incoraggiati dalla presenza amica del Signore che non ci abbandona mai. E' questo l'auspicio che l'Arcivescovo esprime come una consegna al termine del Pontificale della Natività della Beata Vergine Maria, da lui presieduto in Duomo, con cui si è aperto come tradizione l'anno pastorale dell'Arcidiocesi. Rito solenne, in cui si svolge anche la missione di tre candidati al diaconato e al presbiterato e otto al diaconato permanente. Rito concelebrato da sette vescovi, dal capitolo metropolitano della cattedrale, dal consiglio episcopale milanese, dai superiori del seminario, da parroce e preti, per un totale di 150 presbiteri, molti diaconi permanenti presenti. Aprono la messa, come sempre nelle solennità, il canto dei dodici chiri ambrosiani e il simbolico omaggio floreale e di un cero da parte di una famiglia e di una consacrata, alla settecentesca, magnifica icona della Madonna, posta in altare maggiore. Poi l'omelia dell'Arcivescovo, con quell'indicazione chiara soprattutto ai candidati. Questo non dovete perdere, cari candidati, la relazione personale con Gesù. Forse ci aspettano prove, difficoltà, fatiche, ma anche noi, come Maria, non proveremo altra angoscia che quel giorno in cui avremo l'impressione di aver perso Gesù. Poi però lo ritroviamo, sappiamo dove cercarlo, nel segno della Eucaristia. Il richiamo è a non perdere mai tale relazione personale con Cristo, appunto. Poi il rito di ammissione con la presentazione degli aspiranti, che chiamati per nome a uno a uno, si porta nei piedi dell'altar maggiore. Il loro sì lo voglio, sì lo acconsento, necessario, delle mogli dei candidati al diaconato permanente. Sette su otto sono infatti quest'anno sposati. Sì, acconsento. E sempre quest'anno si compie una sorta di sorpasso storico. Infatti tre sono i candidati al diaconato e al presbiterato e otto quelli al diaconato permanente. Come lei sa, io non sono tanto sensibile ai numeri, quindi non è la prima cosa che mi fa pensare, ecco, questo fatto della contrazione numerica dei seminaristi. Certamente il numero dei candidati al diaconato permanente dice che ci sono uomini, adulti, che hanno già avuto esperienza di vita, che vivono in famiglia, che hanno una professione e che avvertono la chiamata a un servizio nel ministero ordinato. Quindi per dire che il ministero sta cambiando forma perché non è riservato ai preti e anche noi preti dobbiamo imparare a collaborare con i diaconi come con tutto il popolo cristiano. Però il prete, ecco, rimane colui che preside l'Eucaristia, rimane colui che risponde a coloro che vogliono dire basta al peccato con la soluzione. Quindi la differenza numerica è meno rilevante della chiamata alla santità di chiunque si metta a disposizione di Dio per rendere possibile la santificazione del popolo cristiano. Grazie. 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 Grazie.